Prima di tutto la lotta alla povertà è sacrosanta, è necessaria e nessuno la sta mettendo in discussione. Quello che io ho provato a dire, anche se mi rendo conto è difficile la discussione, ma quello che ho provato a dire è che quelle persone di Mondragone, perché io quella realtà la conosco, Mondragone è attaccata a Teano, io abito a 10 km da Mondragone, la risposta a quelle persone che io conosco e che chiedono dignità e lavoro, non chiedono un sussidio come lei sta dicendo, come lei sta dicendo, allora noi nulla diamo. E se mi fai dire, Telesi, io ti ho lasciato parlare, se mi fai scrivere un concetto, allora sto provando a dire che la risposta noi la diamo portando a Mondragone, in provincia di Caserta, in tutte le realtà dove c'è una disoccupazione altissima, lavoro, c'è investimenti. Però non si è mai riuscito. Perché il lavoro noi non lo creiamo. E se mi fai dire il lavoro, il lavoro non lo si crea a Mondragone. Però in tutti questi anni, sia chi c'era governo prima, sia nei cinque anni vostri più o meno, non si è riuscito in questa operazione. Prima c'è stata la destra per cinque anni abbondanti, poi io parlo dell'ultimo periodo, cinque anni il PD bene o male. Perché non si è riuscito a portarla a Mondragone, secondo lei? L'ultimo è un altro, molto più sipillino. La mano d'opera, la disoccupazione fa comodo, perché serve a tenere basso il costo del lavoro. Se non si sgancia, se non si rompe un meccanismo, non si cambierà mai. Una società basata sul libero mercato e sul liberismo come oggi non può stare senza disoccuparsi.